Oggi affrontiamo un argomento molto particolare, le stable coin, che dovrebbero essere il punto d'incontro tra i fanatici delle criptovalute e gli investitori più conservativi. Personalmente non sono un grande amante delle criptovalute, ma devo dire che le stable coin sono molto interessanti anche per chi, come penso sia chi segue questo canale, è abituato a fare investimenti conservativi. Chiariamoci subito, l'interesse riguardo alle stable coin si basa su una cosa molto semplice. Le stable coin si vendono come liquidità che rende tassi di interesse tranquillamente intorno all'8-10% all'anno. Esatto, la liquidità in banca rende zero o sotto zero, la liquidità nella forma di stable coin rende intorno all'8-10%. Quindi interesse c'è. La cosa però che vi devo dire subito è che le stable coin non sono un argomento semplice. C'è molto movimento anche a livello governativo e infatti ho deciso di dedicare due video a questo tema analizzando i due punti fondamentali di questo strumento. Primo, che cosa sono le stable coin, che vedremo in questo video. E secondo, come caspita fanno le stable coin a tirar fuori il 10% di rendimento pur essendo liquidità, che vedremo la prossima volta. Lo so, volevate sapere subito come avere i soldi, ma abbiate pazienza e fidatevi che bisogna capire prima dove si stanno mettendo i soldi prima di buttarsi. Tanto per farvi capire vi faccio una domanda. Secondo voi le stable coin sono una banca o un etf? Lo vedremo fra poco. Se vi piace il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Io sono Alessandro Lazzaro, sempre qui a parlarvi di finanza, classica e alternativa come quella di oggi e investimenti. Che cosa sono le stable coin? Le stable coin sono delle criptovalute che a differenza delle criptovalute classiche come bitcoin o ethereum sono ancorate a un asset fisico, come può essere una valuta legale come il dollaro o un asset reale come l'oro. Le stable coin più importanti come Tether e USDC sono criptovalute ancorate al dollaro. Cosa significa? Significa che se la criptovaluta è ancorata al dollaro uno a uno, significa che dietro a ogni criptovaluta c'è un dollaro. Cioè io posso sempre scambiare criptovaluta per il suo valore in dollari e di conseguenza quella criptovaluta non avrà la volatilità pazzesca del bitcoin, ma sarà piuttosto stabile. In sostanza avrà il valore dell'asset sottostante. Ora perché mai creare uno strumento di questo tipo? Due motivi. Il primo è creare un sistema di pagamento. Voi sapete che l'obiettivo di coloro che credono davvero nel bitcoin è quello di creare una valuta alternativa e di conseguenza che il bitcoin o ethereum vengano riconosciute come valute e quindi possano essere usate come moneta di scambio per comprare beni e servizi. Il tutto al di fuori del sistema bancario tradizionale. Il problema di fare questo è che tutti dovrebbero accettare il bitcoin come moneta di pagamento e il bitcoin non è ancora accettato come tale e forse non lo sarà mai. Con le stable coin il problema non si pone perché se vi pago in tether per esempio di fatto vi sto pagando in dollari cioè voi potete sempre scambiare la vostra stable coin con dei dollari in un rapporto fisso. Voi direte che senso ha? Beh un po' di senso ce l'ha cioè invece di usare il sistema di pagamento tradizionale attraverso le banche utilizzo la blockchain e quindi ho dei costi più bassi e soprattutto più velocità perché il passaggio avviene immediatamente. Questo fatto della velocità è importante perché se è vero che in teoria le stable coin possono essere un efficiente strumento di pagamento in dollari nella pratica vengono molto usate come liquidità per i trader in criptovalute. Se un trader in bitcoin vuole parcheggiare un po' dei suoi bitcoin e li cambia in dollari ora che li cambia il prezzo del bitcoin è già cambiato e potrebbe anche averci perso. Se li cambia in stable coin il passaggio è sempre in blockchain e quindi avviene immediatamente con molta più sicurezza per il trader. Quindi ricapitoliamo un attimo quanto detto finora. Le stable coin sono criptovalute ancorate al dollaro, diciamo solo dollaro visto che sono quelle più importanti, che possono essere usate come strumento di pagamento per chi vuole pagare in dollari e come strumento di gestione della liquidità per i trader di altre criptovalute. Tutto chiaro? Ora che abbiamo chiarito lo scopo dello strumento stable coin dobbiamo capire cosa sono concretamente dal punto di vista finanziario le stable coin. All'inizio del video vi avevo fatto una domanda. Le stable coin sono una banca o un etf? Se voi comprate dei bitcoin siete voi i vostri bitcoin e la blockchain. Se voi comprate delle stable coin dietro alle stable coin c'è una gestione. Voi mettete un dollaro e gli arriva una stable coin. Voi lo rivolete indietro e date dentro la vostra stable coin. C'è una gestione finanziaria. A differenza del bitcoin le stable coin sono emesse da un emittente e hanno dietro una gestione finanziaria. Se io compro una stable coin per un dollaro io ricevo la stable coin e l'emittente utilizza il mio dollaro a copertura della stable coin. Domanda cosa se ne fa l'emittente del mio dollaro? Lo mette sotto al materasso? Mica tanto. Lo investe. Questo è il punto fondamentale ragazzi perché come l'emittente investe il denaro in copertura fa tutta la differenza di questo mondo. Se l'emittente investe i proventi in titoli a breve termine come possono essere titoli di stato a breve termine di fatto è un fondo monetario. Praticamente le stable coin sarebbero delle passività a breve termine bilanciate da attività a breve termine. A seconda dei tassi di rendimento che l'emittente riesce a portarsi a casa questi possono essere usati per pagare i costi ovviamente e in futuro anche per distribuire reddito ai detentori di stable coin proprio come fa un fondo monetario. In realtà le stable coin sarebbero un fondo monetario molto particolare cioè un fondo dove si può entrare e uscire in qualsiasi momento e dove il valore del fondo e il prezzo del fondo vengono tenuti in linea. Cosa vi ricorda? Questa è la struttura degli etf spiccicata. In questa accezione le stable coin sarebbero degli etf monetari. Tuttavia il trucco più vecchio del mondo in finanza è bilanciare passività a breve termine con una serie di attività a lungo termine e gestire la liquidità di breve periodo. Perché farlo? Semplice perché si guadagna molto di più. Voi andate in banca, depositate i vostri soldi al 0,5% con la promessa di poterli riavere quando volete e la banca li usa per erogare un mutuo a 15 anni al 2,5%. La differenza è il guadagno. Se così fosse, cioè se i dollari depositati in copertura delle criptovalute fossero investiti a lungo termine, le stable coin sarebbero di fatto delle banche, con tutti i rischi legati a questo tipo di attività che ogni tanto vengono fuori. E con la differenza che le stable coin non sono classificate come banche, non sono soggette a supervisione e non possono usufruire di nessuna garanzia pubblica. Dovessero esserci forti scossoni sul mercato dei bitcoin. Questi potrebbero ripercuotersi sulle stable coin perché i trader in bitcoin cercherebbero liquidità nelle stable coin, liquidità vera in dollari e se questi dollari non ci fossero pronti e disponibili sarebbe un problema. Voi direte beh guardiamo cosa c'è dentro a queste stable coin e risolviamo la questione. Beh il problema è che non è mica così semplice perché vi sfido a guardare il bilancio di una banca a capirci qualcosa. È tutta la luce del sole eppure le crisi finanziarie accadono lo stesso e proprio per questo esiste la supervisione e la garanzia pubblica. Le stable coin non sono né soggette a supervisione né a garanzia pubblica. Sono emesse da aziende non quotate, alcune delle quali hanno sede offshore. Prendiamo le principali stable coin, Tether e USD Coin. Tether ha sede a Hong Kong, è controllata da Bitfinex, un exchange di criptovalute che ha sede alle isole vergini britanniche, quindi non proprio paradisi della trasparenza. L'anno scorso Tether è stato multato negli Stati Uniti per non aver correttamente rappresentato quali erano gli asset che coprivano le sue stable coin. USD Coin, detta USDC, è emessa da Center, un consorzio composto da Circle, azienda americana non quotata, e Coinbase, altra azienda americana questa volta quotata. Forte della presenza di Coinbase, USDC si vorrebbe imporre come la più solida delle stable coin. Il problema è che anche in questo caso non c'è proprio piena trasparenza. Ha fatto scalpore il fatto che Coinbase abbia cambiato la dichiarazione sul suo stesso sito, lo so, si vede male, scusate, dicendo che prima che USD era coperta da dollari e poi che era coperta da asset. Ma cosa sono questi asset? Circle si fa fare dei report da Grant Thornton, una società di revisione. Ma sono report, non sono audit. Circle ha dichiarato di volersi quotare in borsa a fine anno, tramite SPAC tra l'altro. Vedremo se con la quotazione arriverà più trasparenza. Per concludere, io non sto dicendo che le stable coin sono o non sono sicure. Quello che dico è che in assenza di una chiara regolamentazione che dica con precisione cosa sono le stable coin e le regolamenti di conseguenza, l'unica cosa che abbiamo per dire se una stable coin è sicura oppure no, concretamente, è la parola dell'emittente. Direi che per questo video è abbastanza. Intanto digerite un po' queste informazioni. Nel prossimo video vedremo come caspita fanno le stable coin a pagare il 10% di interessi. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Se invece di investire in asset esotici siete interessati a capire come potete cominciare a investire per il lungo termine andate a vedere la pagina del mio videocorso Accumulare Capitale, il videocorso dedicato a chi vuole investire in autonomia. Trovate il link in descrizione qui sotto. Io sono come sempre Alessandro Lazzaro e ci vediamo nel prossimo video.